Il presidente della Fondazione Toscana Life Sciences, Fabrizio Landi e lo scienziato Rino Rappuoli hanno ricevuto dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, il Pegasodoro, riconoscimento per la loro ricerca per un farmaco contro la Covid-19. Rappuoli, coordinatore del progetto toscano per il farmaco anti-Covid con anticorpo monoclonale, ha spiegato che il medicinale dovrebbe entrare in commercio da marzo e sarà prodotto in qualche milione di dosi da Toscana Life Sciences, negli stabilimenti della Menarini. Io ho voluto il Pegaso per Fabrizio Landi e Rino Rappuoli perché queste due persone ci possono davvero offrire il senso di come l'organizzazione di una fondazione, la Fondazione Scienze Vita di Siena, e la capacità di creare volano attraverso ricerche che poi danno risposte a aspetti concreti della nostra salute e quindi innescano l'industrializzazione di prodotti farmaceutici sia un esempio di come davvero la ricerca in un paese come l'Italia debba essere incentivata, debba essere finanziata, sostenuta. Il progetto è stato messo a punto nei laboratori di Siena della Fondazione. Rappuoli ha spiegato con un esempio la differenza tra il farmaco con anticorpo monoclonale e un vaccino. Per spiegare la differenza tra anticorpi e vaccino vorrei ricordarvi una pratica che spesso si fa nel pronto soccorso. Quando uno va a un pronto soccorso perché si è appunto con un chiodo rugginoso, roba del genere, li fanno prima le gamma globuline per il tetano e poi subito dopo li fanno il vaccino. Le gamma globuline proteggono immediatamente, il vaccino protegge a lungo termine negli anni. La stessa cosa sono per gli anticorpi. La Fondazione Toscana Life Sciences è un ente no profit attivo sul territorio regionale per supportare le attività di ricerca e per favorire la nascita di imprese innovative nel campo delle scienze della vita. Credo che il valore importante, come diceva anche prima Rino Rappuoli, questo premio va all'ecosistema che TLS è riuscito a costruire in questi anni come centro che da una parte fa ricerca innovativa e dall'altra ospita altri soggetti, sia privati che pubblici, che fanno ricerca. Cioè il futuro contro il Covid ma contro qualunque altra cosa che potrebbe arrivare in domani è di gestire direttamente queste cose. Non possiamo delegare la ricerca ad altri sistemi al di fuori del paese.